Pescaggio della fondale a meno 20 metri, lunghezza della banchina e prossimità alla rete di trasporto del gas. Sono le tre caratteristiche tecniche che hanno indirizzato sul porto di Piombino la scelta del governo per la collocazione della rigassificatore. Ormeggio previsto a inizio 2023 e permanenza non oltre i tre anni. Secondo il progetto di Snam, l'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione in gerico tecnico FSRU sarà ormeggiata in corrispondenza della banchina est della Darsena Nord del porto lasciando 60 metri tra la poppa della nave e la banchina nord in maniera da consentire l'evoluzione in sicurezza dei rimorchiatori durante le manovre di accosto e la partenza delle navi. La Golar Tundra, la nave impianto acquistata da Snam per lo scopo misura 292 metri e mezzo di lunghezza e 43 metri e mezzo di larghezza. Ha quattro serbatoi di stoccaggio del gas naturale liquefatto, l'impianto di rigassificazione a prua e a poppa ci sono le sistemazioni per gli alloggi dell'occupaggio, la sala di controllo centrale e i macchinari di servizio. Ha una capacità di rigassificazione annuale di circa 5 miliardi di metri cubi di gas naturale, l'equivalente a un sesto della quantità di quello che oggi viene importato dalla Russia. Tra aprile e maggio del prossimo anno dovrebbe essere in grado di ricevere e rigassificare. Sarà rifornita a intervalli regolari, al massimo una volta a settimana, da navi metaniere che potranno arrivare da ogni parte del mondo, a cominciare dall'Africa e dal Qatar. Il gas arriverà allo stato liquido a una temperatura di meno 160 gradi e a Piombino subirà il cambiamento di fase allo stato gassoso mediante vaporizzazione.